Sono sette i feriti nell'incidente avvenuto l'altra sera nel Lunapark di Gallipoli. Sono quasi tutti minorenni e dopo le cure ricevute al pronto soccorso, sono stati giudicati guaribili nel giro di un paio di settimane. La prognosi più alta è di 20 giorni, quella più lieve di 5. Intanto la giostra, su disposizione del pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Donatina Buffelli, è stata posta sotto sequestro. Nelle prossime ore, dopo l'informativa ridatta dagli agenti del commissariato di Gallipoli, diretti dal vicequestore aggiunto Monica Sammati, il magistrato potrebbe conferire l'incarico ad un consulente, per chiarire così la dinamica dell'incidente, per stabilire la regolarità dell'autorizzazione all'esercizio e per verificare se il cedimento del palo sia stato dovuto ad un problema meccanico, strutturale o al comportamento degli avventori, che potrebbero non aver rispettato i divieti previsti dalla cartellonistica. Gli accertamenti del consulente, infine, dovrebbero contribuire ad accertare eventuali responsabilità. Il reato che potrebbe essere ipotizzato è quello di lesioni colpose, e novità potrebbero esserci già a partire dalle prossime ore. L'incidente, ricordiamo, è avvenuto l'altra sera, la giostra interessata è quella con i seggiolini volanti, è uno dei divertimenti più classici del Luna Park. La giostra ha dei seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano, mentre gli occupanti devono tentare di prendere al volo il trofeo in palio, in questo caso un pallone, e accedere l'altra sera sarebbe stato proprio il palo in ferro che reggeva quel pallone.